Oh fra, state accorto, fra, fra, oh, a chi appacchino, fra, di nocecchino, no, costruisci che si sparano, e quando mi dici che non dico il materiale strunz, ma... Trappanarello con la panatura, trappanare un occhio di un giorno, bu... Pronto? Buongiorno, vendiamo le coperte per i letti, 85 euro. Me ne fotte proprio, me ne fotte proprio, ciao. Ma se mi chiamano, mi chiamano, ma se mi chiamano, mi chiamano, me ne fotte a me. Ma scusa, pubblicità, ma è scassato, oh, ti sto andando il materiale, aspi? Beh, lo che sto andando? Oh, fra, a chi appacchino? A chi appacchino, fra, a chi appacchino? Ah, non, ancora... Pronto? Ma ne altre coperte? Ma ne fotte, tu sei ancora cercato, tu hai, ma ne fotte, ma ne fotte, ma ne fotte, ma ne fotte. mamma c'è scassato cazzo fra uccidilo fra ce la puoi fare ma non ti stai facendo capire niente fra che cazzo stai combinando fra oggi ho stictero oggi ho stictero fra mi fatti il taglio fratalo c'è scassato cazzo ah e mi chiamo sempre c'è scassato cazzo ah mo ah mo ma sei annamorata mi ah ma non c'è sicuro il merda scusa ma non l'hai fatta apposta che ho colse la pubblicità là ma non stai chiamando e com'è non c'ero niente di iniziare a te no ma ascolta ascolta mamma ma attaccato un bacio fra l'annamorata mi mi ha lasciato perchè uno mi stai chiamando oh è coperto e cosa e io c'è no no che lui mi continuava a chiamare poi mi ha chiamato e una volta c'è scassato cazzo in me invece non è risa sei annamorata mi ma non ci lasciate per pieghillulla mamma mi stu strunzo cosa? ma che cazzo stai dicendo? ma sei serio? tuo zio vende le coperte tuo zio? scusa ma questo qua che mi aveva venduto le coperte aveva una voce tipo e vuoi comprare le coperte? cosa? è il tuo zio? ha la fannuta a vivere trape la nonna con trape la natura trape la notte e un giorno pure è il tuo zio